Direttore Bagnoli, il settore giovanile di Verona Volley si prepara un importante Open Week, come funzionerà? Sì, siamo alla ricerca di nuovi talenti, abbiamo la possibilità di utilizzare un centro meraviglioso come il Manuel Fiorito dotato di quattro campi da pallavolo in erba, delle piscine e di una struttura eccezionale per mangiare e quindi vogliamo dare ai ragazzi una possibilità, un'opportunità notevole. Questa Open Week si rivolge essenzialmente alle ragazze che vanno dal 2009 al 2012 e i ragazzi che vanno dal 2009 al 2011. In più la federazione ci dà anche la possibilità di far giocare nell'Under 13 dei 2008 che non siano mai stati tesserati, quindi l'Open Week è aperta anche a loro. Sarà un impegno per tutta la giornata per questi ragazzi che sarà strutturato su diversi momenti di lavoro e anche qualche momento di svago? Sì, assolutamente. Al mattino faremo l'accoglienza dalle 8 alle 9, poi cominceremo con una base di preparazione atletica e degli allenamenti tecnici. Un tarda mattinata poi si farà il bagno prima di andare a pranzo, un momento di relax subito dopo il pranzo e al pomeriggio faremo tantissimi giochi e tante partite perché per noi è determinante il massimo impegno da parte dei ragazzi ma che si divertano. Che cosa ci si può aspettare essenzialmente da questa Open Week? Noi vogliamo allargare la base delle nostre squadre e fornire ai ragazzi del territorio un'opportunità di crescita sia dal punto di vista proprio sportivo che dal punto di vista educativo. Noi vogliamo allargare la base delle nostre squadre.